Ciao, in questo commento mi richiedete 10 cose a tema spiaggia. Spiaggia l'associo un po' anche all'estate, quindi provo a racchiudere questi due temi in questo commento. Vediamo se riesco ad arrivare a 10 fidgets. Allora, nel primo cassetto, fatemi un attimo fare in mente locale. Tema spiaggia, mi sa che non c'è nulla, perché sono più che altro cibi che si mangiano dappertutto. Quindi, niente, andrei al cassetto successivo. Allora, questo è il cassetto dedicato ai cibi. Secondo me il tema spiaggia è assolutamente il ghiacciolo che si mangia con piacere al mare, numero uno. Poi, poi, vediamo cos'altro al mare o comunque in spiaggia. Beh, secondo me ci sta anche un bel gelatone di questo tipo, con il numero due. Poi, effettivamente anche la frutta si mangia in spiaggia. Beh, assolutamente l'anguria, io la considererei numero tre. Poi, vediamo qui dietro, fragole, patatine, hamburger, no? Beh, magari, forse può andar bene anche tipo il milkshake o comunque quei bitoni belli, freschi. Provo a metterlo nel caso mi fate sapere poi nei commenti. Numero quattro, forse. Poi, vabbè, qui ne ho un altro uguale a quello di prima, carota, fragola, l'uva. Beh, in verità anche l'uva, vedo tante persone che la portano in spiaggia. Mmm, ma per adesso non la considero nel caso ci torno poi dopo. L'ananas è anche un frutto molto estivo. Però, beh, proviamo ad andare avanti e vediamo cos'altro riesco a trovare. Da questa parte, dove sono i mini pop-it, tema spiaggia, la maglietta è spiaggia, un po' forzatina. Tema spiaggia, però, mi viene in mente, ad esempio, il granchietto che sta alla riva del mare e dove tutti i bambini li pescano e gli fanno male. Poveri granchietti. Quindi direi numero cinque. Poi qui, cos'è, cupcake al mare, non credo, unicorni, fiorellini, numeretti. Direi di andare al cassetto successivo. Allora, tema mare, spiaggia, anzi, voglio considerare assolutamente la conchiglia, quindi numero sei. Poi, proseguendo in questo cassetto, tema spiaggia, io considererei il granchietto, quindi numero sette. Poi, vabbè, avrei ad esempio l'aragosto, un altro granchietto. No, metterei la tartaruga, che l'altra volta ho dimenticato, me l'avete scritto nei commenti, numero otto. E che immancabile è almeno un pesce, tema spiaggia, quindi numero nove. E cambio cassetto, vado nell'ultimissimo cassetto. Tolgo un po' di fidgets enormi. Tema spiaggia, beh, avrei ad esempio questo mega squishy a gelato, oppure un altro granchietto, oppure questo. Diciamo che c'è un po' di scelta. Ma, anziché prendere questo, vorrei scegliere... Vorrei scegliere questo, che è una specie di polepino, la spiaggia. Numero dieci siamo. Poi avrei ad esempio anche questi pesci, forse un po' più tema oceano che tema spiaggia, però direi che ci siamo. Ho raggiunto il numero richiesto, avrei anche ad esempio questi pesci squishy, diciamo c'è un bel po' di scelta tema spiaggia. Anche qui sotto qualche animaletto è marino, tipo la paperella, il delfino qui sotto. Quindi direi che sono riuscito ad arrivare a dieci. Grazie mille del commento e alla prossima. Ciao! Ciao!